Ci sono buoni tiratori, hanno molte opportunità Vediamo chi calcia La difesa qui deve assolutamente evitare di concedere gol De Bruyne Che meraviglia Madonna mia che punizioni che sto a tirare però Mamma mia, lo voglio un attimo di guardare Cioè l'ha messa lui, tipo palla a mano Quando non la blocchi la respingi con i pugni